Oh, quale è? Questa è l'ultima sera. Dubrovnik. Non lo so, il telefono è andato in tilt, non si capisce più niente. Vabbè, non importa, dai. Intanto domani mattina siamo di nuovo operativi. E' passato così in fretta questa settimana, non me ne sono neanche accorto. Questo è il porto di Dubrovnik. Qua abbiamo attraccato. C'è un ponte, tipo il ponte di Bari, dai, che hanno fatto quel ponte. Ah, bella, bella Dubrovnik. Vabbè, te sicuramente ci sarai stato, insomma. Eh, vabbè, qua è giù al ponte, qua ci sono tutte le, le, come si chiama, le navette di soccorso in caso la nave affondi. No, non ricordo come si chiamano queste navette, boh, boh, non mi ricordo, non mi ricordo. Le scialuppe. Eh, babu, core, è finito. È finito, è finito. Mo' ci stiamo organizzando con l'anto per domenica, per venire a trovare, a trovarti. Senti, come sei andato a trovare il babu con la macchinina, eh? Mannaggia a te, mannaggia. Eh, sì, no, ha mandato il babu un messaggio, ma molto velocemente, eh. Ha detto che... Ha detto... Quel birbantello del figliolo mi è venuto a trovare con la macchinina. No, vabbè, ma era ipercontento di questo. Eh, va bene? Beh, poi dopo te li vedi tutti sti video. Ciao, cuore mio. Ciao.